Ed arriva Biella Facile, un'app che consente ai cittadini di avvicinarsi in modo concreto al Comune ed anche alla Regione Piemonte. Ci spiega tutto l'assessore Massimiliano Gaggino, buongiorno. Buongiorno, ma il senso di questa operazione è di riunire tutti quegli innumerevoli servizi online che già il Comune di Biella e anche la Regione Piemonte in questo caso e mettono a disposizione dei cittadini. Purtroppo non si sa, c'è ancora tanta gente che magari viene a fare i certificati direttamente in Comune facendo code, magari il freddo in questo periodo e invece potrebbero farli direttamente a casa. Si può iscrivervi ai ragazzi alle mese, anzi bisogna iscrivervi alle ragazze alle mese, bisogna farli anche diventare un po' obbligatori questi servizi perché comunque, detto tra di noi, Amazon ormai lo usano tutti i giovani e vecchi. Quindi l'importante è dare un servizio che sia efficiente e che la gente possa gestire facilmente, soprattutto col proprio telefono. Biella facile è un modo di riunire tutti i servizi o comunque di avere una risposta dal Comune solo praticamente avendolo in mano con un'app. Ci saranno degli sviluppi ma comunque questo è il principio fondamentale. Allora è possibile ad esempio, non lo so, scaricare un'autocertificazione perché ormai sappiamo che è la modalità con cui si autodichiarano moltissimi dati sensibili e come si scarica molto facilmente? Assolutamente, il principio primo e unico e io ho cercato di mantenerlo è quello dello speed, questa identità digitale. Noi dobbiamo andare avanti con lo speed, lo Stato lo richiede quindi bisogna che la gente si metta nell'ottica che prima di entrare in un'app bisogna speedarsi. Cosa vuol dire? Consegnare la propria carta di identità all'app e dire sono io, sono Massimiliano Gaggino. A questo punto una volta entrato noi avremo una serie di servizi, tutto quello che il Comune può dare online viene dato. Quindi ogni volta che il sync viene dato all'interno dell'app, viene linkato all'interno dell'app, quindi ogni volta che noi svilupperemo un nuovo servizio in quell'app ci sarà. Adesso oggi vedremo durante tutta la conferenza stampa tutti gli innumerevoli servizi ma poi sta a voi entrare nell'app, cliccare e cercarli tutti. Sono divisi per settori quindi dal turismo alla cultura e all'innovazione tecnologica ma anche se non ci sono servizi direttamente dati dal Comune di Biella ci sono i link per andare per esempio alla NPR che è l'anagrafe centrale dove il Ministro in questo momento ha sviluppato la possibilità di farsi i certificati online gratuiti. Grazie.